Raga, vado in bagno. Ho deciso di portare i miei talenti al cesso. Raga, casino, non c'è più pasta. Chiamo il mio agente e ho deciso di portare i miei talenti al Lidl. Stiz, mangiare le pizza stasera? Chiami tu? No, io senza le telecamere di SPM non chiamo nessuno. Semmai chiamo il mio agente e dico che i miei talenti vogliono mangiarsi una pizza margherita. Grazie a tutti.